la parola in cento parole commento il vangelo di giovedì 8 settembre 2022 a cura di fra simone oggi celebriamo la natività di maria ma l'attenzione del vangelo è quasi tutta rivolta a gesù e a gioseppe il vangelo di oggi si limita a sottolineare una cosa maria è nata per essere madre la madre di dio noi sappiamo che nella piccola maria appena nata c'è tutta la grazia di dio ma tutto questo rimane nascosto il vangelo non ci dice nulla avvolge tutto nel silenzio questo non è a caso ma ci ricorda che dio preferisce manifestare la sua grazia attraverso le vie più normali solo la fede permette di riconoscere la grazia che dio nasconde negli eventi e nelle persone